Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della piddicesima settimana del Tempo Ordinario. Potere o servizio? A noi la risposta. Un po' questa è la sollecitazione che ci viene dalla liturgia della parola di oggi, che vede come prima lettura il profeta Michea. Iniziamo a leggere questo profeta, anche ci accompagnerà nei giorni della settimana prossima. Ecco, Michea siamo al capitolo 2, primi 5 versetti, metti in guardia sulle persone che non si accontentano mai di quello che hanno, ma addirittura durante la notte pensano come fare per usurpare i campi, per prendere ciò che non è proprio, e quindi utilizzare in maniera distorta e in maniera perfida il proprio potere. Però è vero, come continua ancora il profeta a dire, che non ci sarà nessuno però che ti riassorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore, perché è così, davanti a Dio ognuno di noi risponderà di se stesso. C'è bisogno sì di conversione, di pentimento, perché anche ognuno di noi, nessuno è libero da questo atteggiamento di imprenditorialità, di profitto più che di servizio. Anche in qualsiasi campo uno pensi di stare, deve essere molto attento, sorvegliare su se stesso, perché il denaro, il potere, la ricchezza nebbia la mente dell'uomo. Si dividono tante famiglie anche per eredità, ci sono divisioni, solo è soltanto avere il denaro per avere una parte, dicendo sì, mi spetta il mio, però spesse volte diventa soltanto un accaparrarsi cose che non danno vita in pienezza. Nel brano del Vangelo di oggi troviamo un Gesù che, siamo al capitolo 12 di Matteo, ai versetti 14-21, i farisei tengono consiglio un po' per farlo fuori, per voler uccidere il Signore, Gesù va altrove, va altrove facendo guarigione, va altrove vivendo il servizio, in mezzo a quelle persone che hanno necessità, non è chiuso nel suo palazzo, non è chiuso nel suo entourage, ma va fuori, va incontro a quelle persone che vivono una situazione di malessere e quindi pertanto vuole alleviare le loro sofferenze. Lascia cucinare nel brodo i farisei, coloro che hanno un po' di vuotele, che stanno lì a pensare come fare di portare avanti la loro carretta, però Gesù pensa ad altri che veramente nella necessità. Signore ci aiuti a pensare un po' anche alla nostra vita perché ognuno di noi ha un po' di potere, potere anche nel parlare, nel dire, nell'atteggiamento, non è soltanto sotto l'aspetto di pecunia, di denaro, ma è potere anche altro, anche soggiugare le persone, tenerle sotto banco, sotto il ricatto, farle sentire in colpa, ci sono varie tipologie di potere, però il servizio è quello invece che ridà vita, perché è come Gesù che nella lavanda dei piedi si è chinato per fasciare le ferite. La Santa Famiglia di Nazareth ci aiuti a contemplare il bambino Gesù che cresce ed è diventa il Signore, il Signore della nostra vita e contemplando il Signore impariamo a vivere anche i nostri giorni. Auguro a tutti voi una santa giornata, un buon sabato e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.